Casi di presunto bullismo a Caltanissetta, chiuse le indagini riguardanti due giovani. Polizia, controlli e attività di prevenzione nel Nisseno, un arresto, 18 denuncia e 25 perquisizioni. Policlinico, la posizione dell'Associazione Noi per la Salute, in vista della prossima conferenza dei sindaci sul tema. Il governo regionale si attivi per inserire la fibromialgia tra i livelli esistenziali. Bentrovati, casi di presunto bullismo a Caltanissetta, chiuse le indagini riguardanti due giovani. Si è conclusa l'attività investigativa nei confronti di due minorenni di Caltanissetta, che avrebbero sequestrato e torturato un tredicenne all'interno di un garage per un'ora e mezza. Il procuratore capo per i minorenni di Caltanissetta, Rocco Cosentino, ha chiuso le indagini sui due quindicenni accusati a vario titolo di tortura, sequestro di persone, minacce, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Le vittime, in tempi diversi, sarebbero state quattro ragazzini, pure loro nisseni, che sarebbero stati malmenati sempre dai due. L'episodio più violento risale alla mattina del 7 settembre dello scorso anno, quando un tredicenne sarebbe stato portato all'interno di un garage con l'inganno. Una volta lì dentro, gli avrebbero legato mani e piedi con nastro adesivo da imballaggio e lo avrebbero picchiato per circa 90 minuti per poi minacciarlo con l'uso di un coltello. Inoltre, gli avrebbero versato addosso un secchio pieno di acqua e di olio per motore, minacciando di volergli dare fuoco con un accendino. Il tredicenne sarebbe stato rilasciato dopo essere stato minacciato di morte se avesse rivelato quello che era accaduto. Da questo episodio, le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare altre storie di violenza ai danni di altri tre minorenni di Caltanissetta accadute nei mesi precedenti, sempre con lo stesso modus operandi caratterizzato da azioni e aggressioni violente. Sono tutte vicende al centro dell'attività di indagine, conclusa dalla Procura per i minorenni di Caltanissetta. Polizia, controlli e attività di prevenzione nel Nisseno, un arresto, 18 denunce e 25 perquisizioni. La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso della consueta attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della provincia Nissena, ha tratto in arresto un ragazzo di 20 anni e denunciato all'autorità giudiziaria 18 persone, eseguito 25 perquisizioni e sequestrati Ashish e Marihuana. Il 20enne è stato arrestato per lesioni personali e minaccia. Un 38enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tre persone, una 23enne e due 20enni, sono state denunciate per furto. Altre due persone per guida sotto l'influenza di alcol. Tre persone per minaccia. Un 19enne è stato denunciato perché è in possesso di oggetti atti ad offendere. Un 46enne per minaccia e resistenza pubblico ufficiale. Un 40enne per invasione di terreni. Un 49enne e un 53enne per evasione dagli arresti domiciliari. E un 52enne per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Sono invece tre le persone trovate in possesso di Ashish e Marihuana per uso personale, segnalate alla Prefettura. Inoltre, nel corso dell'attività di polizia giudiziaria, sono state eseguite 25 perquisizioni personali e sequestrati Ashish e Marihuana. Policlinico e sanità nel nisseno intervento del deputato regionale Michele Mancuso. Il tema sul Policlinico universitario continua a tenere banco di giorno in giorno. Sull'argomento abbiamo ascoltato il deputato Michele Mancuso. Il tema Policlinico è un tema che ci accompagna, manca a farla apposta, in tutte le campagne elettorali. La cosa vera e le azioni concrete sono invece quelle che si sono svolte innanzitutto dentro il Parlamento siciliano, dove grazie a un emendamento stoppato e a un altro emendamento proposto siamo riusciti a mettere un freno a questo tentativo che qualcuno chiama scippo. Io sinceramente dico che è un tentativo legittimo in loro, tanto quanto il nostro. Questo per dire che cosa? Noi dobbiamo assolutamente lavorare affinché il Policlinico, oggi più che mai, avendo anche un assessore regionale alla salute che proviene da questo territorio e che quindi assieme a noi ha tutto l'interesse a tutelare e a tutelarci. Però è chiaro che bisogna fare squadra, bisogna trovare la giusta sinergia e perché no? Aprire anche un dialogo con Enna, perché sennò diventerebbe una guerra dei poveri. Io lo dico perché la prima domanda che faccio a tutti quelli che oggi sposano la battaglia del Policlinico è ma sapete che cos'è un Policlinico? Perché se si risponde realmente a sapete che cos'è un Policlinico, ci rendiamo conto che nessuno di noi oggi è pronto. Noi abbiamo la patente perché abbiamo il DEA di secondo livello, gli altri hanno la macchina perché hanno l'università. Allora, fare squadra significa capire e tutelare gli interessi del territorio. Fermo restando comunque che per me oggi la vera priorità si chiama ospedale, la vera priorità si chiama clinica, si chiama la possibilità di dare una risposta concreta alle esigenze delle persone. Abbiamo il privilegio di avere tra i migliori primari delle varie branche in un DEA di secondo livello che va assolutamente rivendicato e rilanciato. Sempre in tema di Policlinico, la posizione dell'Associazione Noi per la Salute in vista della prossima conferenza dei sindaci sul tema. In una nota, l'Associazione Noi per la Salute Tinenselmi esprime la propria posizione sul tema del Policlinico Universitario, dichiarando che un Policlinico va allocato sempre dove ha la sede l'Ateneo ed è opportuno precisare che Caltanissetta è una sede distaccata della Facoltà di Medicina dell'Università di Palermo. L'Ateneo di Palermo quindi, se vuole, può decidere, come del resto avviene nelle città metropolitane, di istituire un secondo Policlinico. Pensiamo quindi che, se vi è la volontà politica di fare questa scelta, essa sarebbe coerente con la centralità della nostra città, all'interno del bacino sanitario Enna Caltanissetta-Agrigento, e in più potrebbe avvalersi dell'unico DEA di secondo livello presente in questo vasto territorio. Ma questa proposta non può non tener conto dell'assoluta necessità di ripristinare gli standard di efficienza del DEA di secondo livello, con la presenza di organici adeguati e al contempo con l'istituzione di quei reparti specialistici che consentono ai cittadini di avere una migliore assistenza e ai potenziali studenti un'offerta formativa completa. Le due facoltà di medicina private di Enna hanno tutto il diritto, con fondi propri, di istituire il Policlinico come avviene nei centri metropolitani. A questo punto devono essere i sindaci, la deputazione regionale e nazionale della nostra provincia, che devono dimostrare con il supporto e la stimolazione dei cittadini di avere a cuore il benessere sanitario. Piano nazionale di ripresa e resilienza, fondi in arrivo a San Cataldo, serviranno per il servizio di assistenza educativa domiciliare. Ancora fondi in arrivo a San Cataldo grazie al PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questa volta le somme vengono destinate al servizio di assistenza educativa domiciliare. Parlano di attività di sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, e l'assessore alle politiche sociali, Gabriele Amico. Il progetto proseguono, mira a sostenere i genitori assicurando una presa in carico temporanea del minore e dell'intero nucleo familiare, salvaguardando l'integrità e evitando la disgregazione, intervenendo con percorsi di accompagnamento per ridurre situazioni di disagio e promuovendosi, legge ancora, un'armonica crescita dei bambini e degli adolescenti per l'acquisizione di nuove abilità socio-affettive e comportamentali. Un lavoro sinergico tra gli attori coinvolti permetterà di individuare le strategie più adatte ed attuare caso per caso e i destinatari verranno indicati attraverso le segnalazioni provenienti dagli enti competenti, dai servizi sociali, alle scuole. Verranno erogati inoltre dei voucher spendibili, precisano ancora, presso organizzazioni del terzo settore disponibili ad erogare le prestazioni ed accreditati nel registro unico distrettuale del distretto sociosanitario di San Cataldo. L'erogazione delle prestazioni, che si realizzerà con il sistema dell'accreditamento, si baserà sulla libera scelta dei beneficiari all'interno del catalogo dell'offerta sociale del comune di San Cataldo e dell'ambito territoriale, che comprende i comuni di Bombenziere, Marianopoli, Montedoro, Milena e Serra di Falco. Sono 215 mila euro l'importo stabilito dal bando, che verranno destinati a interventi sull'assistenza domiciliare nei confronti di varie fragilità per evitare l'istituzionalizzazione all'interno di case di comunità e degli istituti. Questo è un intervento importante perché va a favore delle fasce più debole della popolazione e che metteremo in campo immediatamente per dare delle risposte concrete alla città. E sui fondi del piano di ripresa e resilienza c'è un'interrogazione dei consiglieri comunali Aiello e Visconti al sindaco di Caltanissetta Gambino. Il piano nazionale di ripartenza e resilienza approvato dal governo nel 2021 ha stanziato a favore dei comuni circa 28 miliardi di euro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità. Il PNRR è un'imperdibile occasione per il comune di Caltanissetta, per vedere finanziati progetti su vari ambiti della vita sociale, economica ed infrastrutturale, lo dichiara il capogruppo della Lega Oscar Aiello. Per usufruire delle opportunità offerte dal PNRR sono previste procedure complesse, attraverso le quali vengono erogate risorse comuni che sono i soggetti attuatori. A tal fine, afferma Aiello, l'Unione Europea ha fissato paletti rigidi, non solo riguardo la tempistica, ma anche per quanto riguarda i parametri da rispettare per la realizzazione dei progetti. La Lega ritiene pertanto opportuno fare chiarezza e che l'amministrazione comunale fornisca ai consiglieri comunali un elenco dettagliato dei progetti, specificando la situazione attuale e il loro stato di avanzamento. Con l'interrogazione presentata è stato chiesto al Sindaco quanti progetti sono stati presentati, in quali aree e quanti di quei progetti sono stati approvati. La quantificazione economica complessiva dei progetti presentati e di quelli approvati. In caso di non approvazione di qualche progetto presentato, specificare i motivi della non approvazione. Lo stato di attuazione dei progetti è il rispetto della tempistica e se oltre ai progetti già presentati vi è la possibilità di cogliere nuove opportunità offerte dal PNRR, presentando nuovi ed ulteriori progetti. Abbiamo contattato il Sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, che ha dichiarato che le risposte all'interrogazione presentata dal consigliere Aiello verranno discusse in aula. La patologia del rachide, aspetti gestionali, diagnosi e terapia incontro organizzato dall'Ordine dei Medici di Caltanissetta L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caltanissetta e la Commissione Albo Medici Chirurghi organizzano un corso di aggiornamento in Neurochirurgia e Medicina Generale dal titolo La patologia del rachide, aspetti gestionali, diagnosi e terapia. L'incontro si svolgerà venerdì 17 febbraio a partire dalle ore 14.30 e si aprirà con i saluti del Presidente Provinciale di Caltanissetta Giovanni Di Polito e del Dirigente di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero Sant'Elia Luigi Basile. Nell'aula magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta si susseguiranno gli interventi di medici, specialisti che parleranno della patologia degenerativa del rachide, del contributo della diagnostica per immagini nella diagnosi e nel fall-up, degli aspetti clinici e terapeutici dell'ernia discale lombare o ancora dei trattamenti nel caso di spondilolistesi, l'importanza dello studio neurofisiologico pre-operatorio e intraoperatorio di mielopatia cervicale e del ruolo della fisio-chinesi-terapia. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l'indicazione dei crediti formativi attribuiti dalla Commissione. La più comune, proprio perché comune e interessante mielopatia cervicale, è la stenosi spinale cervicale. La stenosi spinale cervicale è una patologia del complesso colonna vertebrale cervicale, midollo spinale cervicale, caratterizzata dal restringimento del canale spinale e, conseguentemente, da una compressione acuta o cronica, dipende dalle cause del midollo spinale. Il governo regionale si attivi per inserire la fibromialgia tra i livelli essenziali di assistenza. Presentato un disegno di legge per riconoscere un contributo alle persone che convivono con questa patologia. Il gruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana ha presentato un'interrogazione, un disegno di legge per riconoscere un contributo ai soggetti affetti da fibromialgia. Questa patologia non è ancora stata inserita nel sistema sanitario tra i livelli essenziali di assistenza. L'inserimento in questa lista, ha detto il capogruppo del Partito Democratico all'ARS, Michele Catanzaro, permetterebbe a tutti i cittadini di ottenere i farmaci e le terapie necessarie attraverso il sistema sanitario pubblico e, dunque, in modo diffuso e gratuito. Ho presentato insieme con gli altri deputati del gruppo Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana un'interrogazione parlamentare per chiedere al governo regionale di sollecitare la conclusione del processo di inserimento della sindrome fibromialgica tra i livelli essenziali di assistenza. La fibromialgia è una patologia reumatica extraarticolare riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1992, caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso, nonché da profondo affaticamento e da numerose altre manifestazioni cliniche a carico di diversi organi e apparati. Attualmente questa patologia interessa in Italia una fascia di popolazione stimata tra 1,5 e 2 milioni di persone. Nell'interrogazione rivolta al Presidente della Regione, Renato Schifani, e all'assessore regionale alla salute, Giovanna Volo, si chiedono anche notizie sull'utilizzo delle somme distribuite lo scorso anno dallo Stato alle Regioni per lo studio, la diagnosi e la cura della patologia. In attesa dell'inserimento della fibromialgia fra i livelli essenziali di assistenza, ha concluso Catanzaro, il gruppo PD a Lars ha depositato un disegno di legge per riconoscere attraverso l'istituzione di un fondo regionale da 3 milioni di euro un'indennità una tantum ai cittadini residenti in Sicilia affetti dalla patologia. Pista ciclabile dalla stazione di Caltanissetta Centrale a Via dei Giardini. Lavori al Via dalla prossima settimana. Ad annunciarlo è l'assessore comunale Marcello Frangiamone. Inizieranno già dalla prossima settimana i lavori relativi alla realizzazione della pista ciclabile che dalla stazione ferroviaria di Caltanissetta Centrale arriverà fino a Via dei Giardini passando per Pian del Lago. Si tratta di un intervento rientrande tra quelli previsti dal progetto per la realizzazione della ciclovia di collegamento tra Caltanissetta e Enna, che fa leva su finanziamenti di agenda urbana. Ad annunciarlo l'assessore ai lavori pubblici Marcello Frangiamone. Iniziano dalla settimana prossima i lavori che consentiranno la realizzazione della pista ciclabile che fa parte integrale del progetto della ciclovia che univa le città di Caltanissetta e Enna. Nello specifico si tratta di una pista ciclabile che andrà in sede propria, quindi delimitata da un cordolo di sicurezza e quant'altro, che andrà dalla stazione ferroviaria di Caltanissetta Centrale fino ad arrivare a Via dei Giardini quindi attraversando anche Pian del Lago, la zona dello stadio, fino a raggiungere l'incrocio con Via dei Giardini. Durante il percorso prevede la realizzazione di una pista che sarà in doppia, cioè una carreggiata, quindi una pista ciclabile che sarà in doppia corsia dal tratto che va dall'incrocio, quindi dalla rotatoria di San Luca fino ad arrivare appunto al Via dei Giardini, mentre la parte iniziale della pista, cioè quella che va appunto dalla rotatoria di San Luca fino alla stazione ferroviaria, sarà a singola corsia su ambedue le carreggiate di Via Rochester. Durante la realizzazione, soprattutto nella parte che va da Via Stefano Candura sarà necessario tagliare alcune piante, purtroppo che si trovano lungo i bordi della carreggiata stradale. È stato fatto un lavoro molto attento e accurato per verificare tutti gli alberi che possono essere invece mantenuti. Si taglieranno soprattutto dei rovi, dei cespugli, degli alberi selvatici che si trovano, soprattutto la zona che sarà più movimentata sarà quella dove c'è il canalone che costeggia la Via Stefano Candura dallo stadio fino a Via dei Giardini. Devo dire che lì ci sono parecchie essenze che sono anche poste proprio ai margini della carreggiata, sono anche pericolose per la viabilità. Bonus edilizi presentato un disegno di legge che prevede l'acquisto da parte della Regione dei crediti d'imposta detenuti dalle banche. Continua in Sicilia l'attenzione da parte dell'opposizione nella fattispecie del Partito Democratico nei confronti del bonus edilizio. Il blocco della cessione dei crediti legata ai bonus edilizi rischia di portare al fallimento centinaia di imprese, facendo collassare l'intero comparto edilizio siciliano. La Regione ha il dover di intervenire procedendo all'acquisto dei crediti d'imposta detenuti dalle banche a seguito di cessione operate dagli operatori economici o dai cittadini e la compensazione con i propri debiti fiscali. La proposta è stata avanzata da Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana, che sull'argomento ha già depositato un disegno di legge firmato da tutti i parlamentari del gruppo. È necessario sostenere le imprese siciliane che in questi anni, grazie agli incentivi, hanno ridato fiato al comparto dell'edilizia con centinaia di nuovi posti di lavoro e adesso si scontrano con un sistema creditizio che in Sicilia, a differenza di altre aree del Paese, ha minori capacità finanziarie. Per rispondere velocemente all'enorme bisogno delle imprese di monetizzare gli ingenti investimenti approntati, ha concluso Catanzaro. Covid in Sicilia, il bollettino contagi in netto calo nell'ultima settimana. Nella settimana dal 6 al 12 febbraio si è registrato in Sicilia un netto calo di nuove invezioni da Covid-19, in linea con la tendenza sul territorio nazionale. I nuovi positivi rilevati sono stati 1.807, con un'incidenza di 38 casi per 100.000 abitanti. Il tasso più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, Trapani e Palermo. Le fasce d'età maggiormente a rischio sono risultate quelle degli over 90, tra gli 80 e gli 89 anni e tra i 60 e i 69 anni. I dati sono riportati nell'ultimo bollettino settimanale a cura del DASOE, il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana. In merito alle nuove ospedalizzazioni, queste risultano in diminuzione, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si riflette ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid-19. Nella settimana di riferimento, inoltre più della metà dei pazienti in ospedale è risultata non vaccinata. Per quanto riguarda i vaccini, i dati sono aggiornati al 14 febbraio. Dall'inizio della campagna di immunizzazione in Sicilia sono state somministrate complessivamente 10.730.682 dosi. Nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 23,59%, mentre 62.497 bambini pari al 20,28% hanno completato il ciclo primario. Nella fascia over 12, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,97%, mentre a completare il ciclo primario è stato l'89,60% del target regionale. Sono ancora 1.120.719 i cittadini che non hanno effettuato la terza dose, pur aventone diritto, mentre i vaccinati con dose aggiuntiva booster sono 2.773.815, pari al 71,22% degli aventi diritto, incluso il target 5-11 anni. Per quanto riguarda la quarta dose, sono state effettuate 241.377 somministrazioni a soggetti residenti in Sicilia, delle quali 212.402 a soggetti over 60. Le quinte dosi risultano complessivamente 9.032. È tutto, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni per i prossimi giorni. Possiamo notare come tra venerdì e sabato l'anticiclone interesserà ancora tutta Italia, seppur disturbato da infiltrazioni di aria umida che in quota da ovest interesseranno il versante tirrenico, un po' di nubi basse. Domenica invece un blando fronte perturbato dal nord Europa diretto verso i Balcani lambirà il versante adriatico. Intanto ecco la situazione per la giornata di venerdì sull'Italia, una giornata di cieli sereni o poco umulosi, ma un po' di nubi basse sul lato tirrenico. Si tratta solo di umidità che dal mar tirreno investirà i settori occidentali della nostra penisola. Non prevediamo comunque piogge. Cieli sereni o poco umulosi altrove, le nebbie di notte al mattino sulla Val Padana. Ulteriori dettagli approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo.